Salve ragazzi, siamo venuti in questa seconda puntata di Cuphead dove dopo questi due boss dove ero stato con le rane vi giuro sono meno due ore di registrazione ma solo per la rana vabbè comunque qua non abbiamo altra via di scampo quindi dobbiamo andare da una sola possibilità andiamo a parlare un attimo con sto pollicino pescetto fuggi spirito, oh ma sei reale stavo per colpirti con la mia classica parata è così che tratti, così che trattiamo gli spetti da queste parti solo un fessacchio tosperba qualcosa che non c'è proposto di esserci di non esserci di faresti un giro spaventa i pesci, la oh mio dio come si chiama mausoleo 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 i fantasmi vabbè quando c'è i fantasmi oh no ma non vivi sono morto si perchè gli spari ma non li puoi colpire ah no li posso colpire facendo quella doppia guarda forse so o forse lo devi scansare guarda ah si vabbè questa cosa è tipo è facilissima per me non tanto doppio salto si guarda vabbè è facile dopo quello che abbiamo vissuto no mi ha colpito e forse sono tanti vabbè però guarda c'è per te è facile no non sto dicendo che per me è facile però no 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 sto dicendo io che per te è facile perché so che per me non è non è facile rispetto alle rane è veramente un'altra cosa ah perché basta vuoi che si avvicinano a te vuoi si avvicinano a quella altazzina ah infatti l'urna ma c'è help vedi non si devono avvicinare l'urna no ancora sarà solo questo penso speriamo perché altrimenti no io penso o è che uccide o nonno ho capoluccia per si o nonno o nonno ho capoluccia per si o nonno ho capoluccia o nonno ho capoluccia non ho capoluccia non ho parole per ringraziarvi d'avermi salvata giovanotto giovanotto mi sono neppure presentati a un calice delle meraviglie molto piacere ricerca di immagini che i fantasmi ci hanno intrappolata e con piccolo dono oh grazie sull'isola calamar cala ma io vi sono altri mausolei mi domando sì mi domanda anche gli altri ha capito ma che mi ha dato tu tu hai sbloccato una nuova super l'emporio cotechino vediamo anche l'emporio cosa ma non so neanche se abbiamo i moni quindi salve ho 4 moni cuore da un hit point extra mentre poi c'è leggermente questo potere d'attacco ventaglio portata contro con danno elevata bomba scatto invisibile durante lo scatto ok gancio ottima copertina guardando meglio mira all'indietro per avere portata massima non lo so io 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 pure in più sono questi zuccherini scadendo ora dovrò rimavere quattro vite duvidi segnare qui nuvi acquisti per poterli utilizzare ok ah ah un libro come se non è pure eccolo qua quindi ma abbiamo 4 hp questo cos'è in vita acqua questo qua non riuscivo a farlo vai c'è tu prova tu eh non sono anche così infatti vedi 4 hp che mi devo aspettare niente devi spararmi x vabbè comunque dopo quello che abbiamo fatto veramente questo è facile perchè ok andiamo qua uccidiamo questi perbacco mo se non compriamo l'amuleto avevi ancora 3 vite avevi ad una vita prendi la moneta e quindi sto cercando di fare la moneta possiamo comprare poi le cose tu vai sempre avanti non li pensare però mi rompono le balle tu non li pensare vanno annanzi vanno avanti tutto c'è una bellissima stessa c'è una speedrun o un'altra la città però è insomma sono una barba solo per il musese uno star si facciamo a prima che mi ha avuto x cos'è se uno spazio non sono ci vuole veramente non mi penso proprio a questi erbunni ah ma tu devi morire vero devi morire eh vabbè faccio sto facendo lo schifo eh in me sta a me ahahah un bel anguillo ok 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 ma fa oh ma allora partiamo partiamo schippiamo schippa salta salta schippa salta salta schiva salta 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 schiva salta schiva marino ha parole vecchino non ce la faccio più neanche io effettivamente anche se dobbiamo fare almeno dai 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 non ce la faccio più neanche non ce la faccio più neanche schivare il Parca p***a Esquiva, salta, salta Ok, allora A che punto siamo? Diciamo Allora, ti mi pregunto come stai facendo prima? Così, così Ok Salta, esquiva, come stai facendo prima Salta, esquiva, salta Salta, salta, esquiva Salta Il fiore infame Salta, salta, esquiva, salta, esquiva Salta Che sto facendo? Sei andato giù e sei risalito praticamente Salta, esquiva, salta Con calma Con calma, evite da neve di non sprecarle Facciamo le cose bene Allora Salti Ti metti qua, salti, ti metti qua, salti, ti metti qua Ti metti qua Ti metti Sì Madre di Dio Madre di Dio Ce l'abbiamo fatta Mamma mia Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Sì È impossibile È impossibile Mio Dio ho voto mamma Muoti da ammazzate Ma voto mi dove ti fare Basta che ce l'hai Ah Eh, signori Sì Mia maledizione, cos'è stato Cos'è Z Vai, facciamo l'ultimo Mesticcio Facciamo l'ultimo Per la seconda puntata Dici Oh Eh, non mi sembra così Eh, sì, sì Una volta pure mi sento esausto Sì Sì, anche io Onesto Mare di Vito Sì Eh Poi ci doveva collassare Cipo che dice come sto a 70 anni Sì Sì Eh, sì 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 Si vuole che salta la regna per favore dacci un attimo di tregua non sto chiedendo saluti oddio mi sto avvicinando non sto avvicinando non sto avvicinando no ma moriamo ma moriamo per forza no perchè sennò io mi io mi incazzo ti giro io morire no 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 ce la matura ma morire signor stark c'è ma fa mai no di qua ho scolle la squisita la mucca mamma mappati questa seconda puntata eccoci ha fatto fare se no si è esaurito peggio della prima o a meno ma metti quello che vuoi tu, metti quello Z più metti quello che vuoi tu Z TR il mio cuore io sto collassando ti giuro io non posso fare questi giochi c'è ni gelatina sangue io vi giuro non ce la faccio c'è esaurito consumati seconda puntata mi sia piaciuta per forza se no vengo a prendere a casa come sempre il vostro like il commento e la condivisione del video se portate c'è il senso ok grazie alla prossima puntata